Come vi avevo preannunciato, continuiamo a parlare di gestione dei rifiuti e lo facciamo con Mariano Farina, che è un chimico. Buongiorno e benvenuto. Abbiamo sentito che non è che uno può prendere e impacchettare i rifiuti della propria azienda e portarli nel cassonetto, si fa per dire. Ci bisogna rispettare tutta una serie di codici, cosiddetti codici CER, che identificano la tipologia di ogni singolo rifiuto. Innanzitutto facciamo subito chiarezza, perché ci sono i rifiuti domestici, poi queste due parole, rifiuti pericolosi e rifiuti speciali. E quindi pericoloso e speciale, uno dice, boh, la tossicità, i rifiuti nocivi, e qui si apre un mondo, no? In realtà le cose sono un attimino diverse, e cioè i rifiuti sono divisi in base alla loro origine, in domestici e in rifiuti speciali. I rifiuti domestici ovviamente derivano dagli ambienti di vita di tutti noi, i rifiuti speciali invece derivano dalle attività produttive. Poi, in base alle caratteristiche di pericolo, tutti i rifiuti, sia quelli domestici sia quelli speciali, sono divisi nella categoria dei non pericolosi e nella categoria dei pericolosi. Quindi dobbiamo sottolineare che anche alcuni rifiuti che produciamo in casa possono essere pericolosi. Assolutamente sì. Penso non solo alle bombolette spray. Pensiamo alle bombolette. Perché uno pensa, lo butto, le bombolette spray vanno conferite nell'ecocentro, in quelle isole specifiche. Non è che le possiamo buttare in uno di... O i cassonetti per rifiuti urbani pericolosi. Ok. Pensiamo anche ai residui di acido, ai residui di ammoniaca, che sono quelle cose che la massaia usa per pulire casa e che in realtà sono pericolosi. Sono anche poi, si apre qui un discorso anche della pericolosità degli ambienti di vita domestici, però questi sono effettivamente rifiuti pericolosi e in quanto tali devono essere gestiti. Tra l'altro, se non sbaglio, il barattolo dell'ammoniaca, perché finisca nella plastica, va lavato? Altrimenti ci può essere un residuo di pericolosità? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Quindi il residuo del prodotto pericoloso rende pericoloso anche l'imballaggio. E non va messo il cassonetto normale, perché spesso magari non trovando nei vari cassonetti, nell'elenco del calendario che ci manda il comune, il riferimento, diciamo buttiamolo nel secco. No, perché ci sono... No, no, assolutamente no. Troviamo qualcuno che butta nel secco un frigorifero, in realtà per fortuna il secco ha un'apertura molto limitata e quindi uno si ravvede, però magari qualcuno ci butta un phon. Adesso io dico delle cose parossissiche, ma le ho viste. Certo, certo. Purtroppo da una parte c'è una carenza di informazione, ma una carenza anche di volontà da parte del pubblico. Noi dobbiamo tutti pensare che siamo tutti produttori di rifiuti, perché nella nostra vita abituale comunque produciamo dei rifiuti. Quindi smaltirli ha un costo sia in termini economici, ma anche in termini ambientali e quindi tutti noi dobbiamo fare la nostra parte in maniera da ridurre da una parte i problemi per l'ambiente e come diceva l'ospite che mi ha preceduto, ne avremo anche un vantaggio dal punto di vista economico. I codici CER cosa sono e come sono sempre più stringenti nel passare del tempo, le nuove normative sono più specifiche, aggiungono codici? Allora sì, le nuove normative sono sempre più stringenti, cambiano con una certa frequenza e quindi ci sono tutta una serie di problemi di interpretazione. I codici CER, e CER sta per Catalogo Europeo dei Rifiuti, sono un sistema per riuscire a catalogare le varie tipologie di rifiuti e quindi ricondurli all'interno di statistiche che vengono fatti dai vari stati. Quindi all'inizio i codici CER erano nati per motivi meramente statistici. Poi invece col passare del tempo si è dato a questo sistema numerico un'importanza sempre maggiore e quindi adesso si parla di codici CER cercando di fare un'identificazione del rifiuto che è collegato a questo sistema numerico. Per decodificare il rifiuto che uno ha in azienda è necessario avvalirsi di consulenti perché lei parlava di problematica interpretativa. CER, quindi serve qualcuno che sappia fare una sorta, mi passi il paragone un po' improprio, di expertise del rifiuto in modo da capire che rifiuto è e come va classificato, come va imballato, come va trasportato, come va conferito perché poi ci sono vari passaggi. Ora in realtà questo tipo di attività che è assolutamente necessaria e propedeutica poi alle fasi successive di trasporto e di smaltimento o recupero del rifiuto può essere fatta anche all'interno dell'azienda cioè non è strettamente necessario avvalersi di terzi. Indubbiamente però all'interno dell'azienda ci vuole qualcuno che ha studiato la normativa si mantiene aggiornato anche grazie alle associazioni che in questo senso fanno un'opera meritoria e quindi è in grado di interpretare le norme e adattarle alle specifiche situazioni aziendali. Perché se non ricordo male lo stesso bidone con dei contenuti, con parziali contenuti Certo, può avere un codice diverso. Può essere da innocuo a pericolosissimo. Sì, 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 a seconda di quello che c'è dentro un contenitore ovviamente cambia la possibilità di attribuzione del codice CER e cambia anche la pericolosità perché se abbiamo solo un bidone pulito sarà un imballaggio probabilmente non pericoloso. Se invece questo bidone è pieno di residui di vernice, di residui di solventi o residui di oli minerali è chiaro che questo contenuto attribuisce una pericolosità a quel rifiuto e quindi sarà diverso il codice, sarà diversa la classificazione di pericolo sarà diverso anche il sistema di gestione fino al punto finale di smaltimento. Bisogna fare anche delle analisi del rifiuto per capire se può esplodere oppure ci sono delle prove, dei test per valutare la pericolosità del rifiuto questo chi lo fa? L'imprenditore è formato, si avvale sempre comunque perché è un mondo molto complicato se non sbaglio, ho visto dei libroni che sembra proprio lei un chimico a tutte le formule chimiche che poi si intersecano la tavola degli elementi è una semplificazione che poi applicata diventa un alfabeto che produce tante parole, tanti linguaggi, tanti discorsi anche in chimica. Assolutamente, sicuramente la classificazione di pericolo di un rifiuto è un procedimento complesso che parte dalla conoscenza del ciclo produttivo che origina quel rifiuto, dalla conoscenza delle materie prime che sono state impiegate, dal tipo di reazioni che possono avvenire in queste materie prime durante il ciclo produttivo e l'analisi chimica diciamo che è il punto finale di conferma di tutte queste informazioni che sono state raccolte precedentemente. Quindi non c'è solo l'analisi, c'è tutta la conoscenza che deve stare a monte di questo processo di classificazione e l'analisi la conferma. L'analisi permette di identificare e di dare le concentrazioni dei vari componenti del rifiuto e in base alle conoscenze delle caratteristiche di pericolosità che sono attribuite a questi componenti stabilire qual è la pericolosità da attribuire a quel rifiuto. Ora, quest'ultimo passaggio dell'analisi chimica difficilmente può essere fatta in uno stabilimento di produzione a meno che ovviamente non sia uno stabilimento che ha al suo interno un laboratorio chimico attrezzato se no ovviamente bisogna rivolgersi a strutture terze. Siamo, il tempo vola via molto veloce e lei parlava dei codici CER nati per una funzione statistica poi sono diventati una certificazione operativa e una classificazione oggettiva del rifiuto. Si può pensare, visto che si conoscono sempre di più i rifiuti non vengono accatastati così senza criterio ma c'è una specifica conoscenza pensare anche di produrre sostanze, materiali che un domani sono rifiuti meno pericolosi e quindi più ecocompatibili, più ecologici possibili? Sì, anzi questo è proprio lo spirito delle normative in questo senso visto che come dicevo prima a Monte c'è tutto un processo di conoscenza dei cicli produttivi, di conoscenza delle materie prime l'invito che fanno tutte le normative legate ai rifiuti che partono dall'Unione Europea e poi sono recepite all'interno della nostra nazione invitano all'inizio a progettare un ciclo produttivo in maniera poi da trovarsi con dei rifiuti che siano più facilmente gestibili, meno pericolosi e più facilmente recuperabili. Ci saranno mai dei rifiuti totalmente innocui? Temo di no Anche perché la reazione chimica è una reazione naturale Questo è un discorso estremamente generico cioè dire totalmente innocui è chiaro che il contenitore del latte nel momento in cui ho dentro il latte e io lo utilizzo è veramente un qualcosa che io ho in casa o nel mio frigorifero, lo prendo la mattina eccetera Nel momento in cui ho finito il latte e quel contenitore non mi serve più in quel momento diventa un rifiuto è chiaro che per me quel contenitore è innocuo cioè non mi fa nessun danno però nel momento in cui io lo prendo e anziché gestirlo correttamente lo butto nel prato dietro casa in quel senso non è innocuo perché resterà lì per parecchio tempo a ricordare a tutti la mia insipienza nel non gestire correttamente il rifiuto E si possono evitare tanti contenitori di latte magari riutilizzando lo stesso contenitore? Sì, infatti prima avete parlato di un sistema che è in questo momento ancora in fase sperimentale c'era una volta, poi è stato abbandonato per problemi di costi ma adesso, visto che la gestione dei rifiuti costa sempre di più e quindi si stanno anche riscoprendo sistemi diciamo antichi ma ovviamente con mentalità nuova sì, si sta pensando di poter riutilizzare i contenitori in maniera da prolungare la vita di questi dispositivi e quindi poi non andare a creare rifiuti ma anche a non consumare materie prime quindi risparmiare anche le risorse che in un mondo in cui siamo sempre più numerosi e indubbiamente sono sempre più importanti Tornando ai famosi codici CER che diventano più complicati o si semplificano? Diventare più complicati nei requisiti che caratterizzano e nell'introdurre nuovi codici però forse si ha una classificazione più adeguata del rifiuto e quindi un nome individuale che magari comporta una certa fatica nell'apprendere ma poi magari mette più ordine nello smaltimento? Si può leggere così? Ma no, direi di no in realtà il codice resta quello che è e non subisce questo tipo di evoluzione nel tempo anche perché pensiamo che le tipologie di rifiuti possibili sono un numero estremamente elevato i codici CER Le combinazioni sono moltissime i codici CER in realtà sono meno di 900 quindi è impossibile pensare che con una codifica si riesca a ricomprendere tutte le varie tipologie di rifiuti quindi necessariamente i codici devono essere anche flessibili altrimenti ci sarebbero dei rifiuti che non hanno codice e non avendo codice non sarebbero gestibili quindi il codice resta quello che è è la capacità di interpretazione e cambiano semmai appunto i sistemi per l'attribuzione del codice cioè è meglio uno ci sono molti casi dubbi indubbiamente è meglio eccedere per eccesso che per difetto? Per cautela è meglio eccedere per cautela visto che le sanzioni in questo campo sono piuttosto pesanti e prima ne avete parlato è bene essere sempre prudenti ragionare e pensare un minuto di più piuttosto che un minuto di meno perché poi il rischio è veramente elevato Un'ultima domanda fatta al chimico la chimica è stata ha determinato l'evoluzione certe conquiste inimmaginabili senza la chimica spesso però fa paura perché? La chimica fa paura perché ci sono stati tutta una serie di incidenti nel corso della storia pensiamo a Bhopal in India ma pensiamo anche a Seveso vicino a noi che hanno colpito l'opinione pubblica e hanno fatto effettivamente dei danni assolutamente pesanti in termini anche di vite umane quindi la chimica se non correttamente gestita costituisce un pericolo dall'altra parte però è proprio la chimica che può permetterci di superare alcune difficoltà e anzi trovare quelle soluzioni che permettano domani di vivere meglio in un ambiente migliore Io ringrazio Mariano Farina con questa sintesi ringrazio voi per questa prima parte di trasmissione torniamo dopo la pubblicità con altri temi e altri argomenti e altri ospiti ovviamente a più tardi grazie